Ciao Alessandro, com'è andata la serata? Ma sì, un po' emozionato, ma mi sono divertito e mi è piaciuto molto. Questo palco alla fine fa emozionare tutti, come mai secondo te? Diciamo che io sono molto vergognoso. Ma qui siamo a casa, il palco dell'Ibari è molto intimo, è veramente una situazione molto familiare, eppure si emozionano tutti. Vorrà dire che prende molto le persone. È una cosa positiva. Sì, 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 molto. Però mi sono divertito veramente tanto, è bello. Io ti faccio i complimenti, ti ringrazio di essere stato qui con noi e ci vediamo presto. Sì, sì, molto volentieri. Ciao, sei un aspirante poeta, oppure ballerino, oppure modella, o rapper? Insomma, pensi di avere un talento e vuoi portarlo sul palcoscenico e davanti alle telecamere? Partecipa gratuitamente alla seconda edizione di Bulli e Puppe Art Contest. La ricerca dei talenti è appena cominciata, quindi se vuoi puoi iscriverti o richiedere informazioni inviando un SMS al numero 320 22 45 117 o commentando il video qui sotto. Io sono già sul palco, vi aspetto qua. Bulli e Puppe Art Contest dal 19 ottobre tutti i giovedì all'Ibari Caffè di Voghera. Allora, abbiamo finito questa pubblicità. Ah, guardia, lassù che c'è quanto la cina.